A 48 ore dalla prima campanella sull'anno scolastico 2022-2023, la provincia risolve la grana delle aule mancanti nelle scuole superiori di Pesaro. Ben nove classi, cinque al Bramante Genga e quattro a Licio Marconi, rischiavano infatti di non avere una dimora al primo giorno di scuola a causa di un complicato gioco di incastri fra iscrizioni in crescita e aule mancanti o che si è tardato a riqualificare. Oggi però il presidente della provincia Giuseppe Paolini ha dato riscontro di esiti positivi nella lotta contro il tempo, comunicando che l'ente ha trovato soluzioni interne al campus per le aule che mancavano all'appello. Per la provincia è una duplice soddisfazione, si sono infatti recuperati gli spazi e si è pure evitata la migrazione verso strutture esterne al campus. Nello specifico al Bramante Genga sono state recuperate tre aule che erano inagibili per le infiltrazioni grazie ai lavori condotti dall'ufficio tecnico provinciale, mentre per il Cio Marconi si riusciranno a ottenere tre aule dagli spazi finora utilizzati dalla biblioteca con libri che saranno ricollocati a breve in altra sede idonea. Un sospiro di sollievo dopo un complicato lavoro interforze tra provincia, comune e ufficio scolastico.